Marco, foto di copertina, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, si, si vede, appena finito così, stamattina ho fatto uno shampoo, mi sono un po' sistemato i capelli, ma più di tanto non si riesce, vabbè, chi se ne è Marco, cosa stai, cosa? Allora, no, sto facendo gli screen, i messaggi, benvenuti in questo nuovo video l'abbiamo già detto, però lo facciamo, questo è il video degli acquisti che abbiamo fatto ieri, praticamente gli auto regali di Natale che vanno a oltranza regali post Natale, ecco, post Natale, cosa devi fare tu nel frattempo? Ho fatto gli screen? Ma io dico, ma anche voi che gli date retta, cioè io voglio dire, no, perché gli date retta? Che questo da un dito, seppiglia il braccio, seppiglia. Grazie a tutti, grazie. Grazie che cosa, grazie? Grazie per i messaggi. Una conferenza stampa qua? No, grazie per i messaggi, per gli hashtag che avete lasciato, vorrei dire ASZ, Silvia Z, Silvia, anche tu, amore. Che è facile scrivere 1, 2, 3, 4, funziona proprio così. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Eh, andavo a scritto, quindi durante il video saluterò le varie persone, grazie ancora che mi hanno lasciato l'hashtag. Amore, basta, sta storia degli hashtag deve finire qui. È solo l'inizio, è l'inizio dalla fine. Comunque, te la fai pure vedere. No, amore, saluta chi devi salutare, poi passiamo avanti. Facciamo a mano? No, a mano, come a mano? Eh, ogni tanto nel video c'è il saluto a chi. Saluti, intanto, a me è nata storia, possiamo salutare. Aspetta che sto cercando quel tuo telefono, ho fatto gli screen, non si capisco niente quel tuo telefono. Ma perché non lo dai a me, visto che è il mio telefono? Te lo dico subito io, cosa devi fare? Zitto. No, ho già fatto le foto, ho fatto gli screen, devo andare nelle foto. Allora, prima di tutto stai tranquillo, che sei un po' agitato. Allora, adesso non so se sono in ordine di... comunque devi salutare. Rosi Di Stefano, ciao Rosi Di Stefano. Ciao Rosi Di Stefano, grazie per seguirci. Gentilissima, a parte che... Che leccata, ragazzi. Ma che leccata di cosa. Che fa? Ma sto ringraziando allora, ho lanciato un cos'è. Ma questa è una leccata esagerata, un pre... Vabbè, Antonella Benigni, ciao Antonella. C'è Antonella Benigni? Sì. Un attore. Eh. Ma se pare di... Giovanni... Giovanni? Grazie Giovanni. Maddaloni. Giovanni? Maddaloni. Grazie Giovanni Maddaloni, primo uomo. Ciao Giovanni. Ma non sappiamo se è uomo, magari è quello di lui e poi scrive quella di lei, no? Ah, che tra me. Poi Chiara Giannino, ciao Chiara, grazie. Ciao Chiara Giannino, ciao Chiara. Diamo il giusto peso alle persone. E se senti di farlo così per fare... L'Ore... Molto e meno, eh. Che so farmi è. L'Orella... Non lo capito, non lo capito. 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 E io sono infiltrato. Venti, sei infiltrato pure troppo, secondo me. Viverà il mio canale troppo. Allora, L'Orella Agabiti, o Agabiti. Ciao L'Orella. Ma di tutto stai tranquillo. Saluta L'Orella, ciao L'Orella. Tutti così insieme, non è meglio un po' alla volta, pezzo per pezzo, del video? Qualcun altro dopo, così almeno. No amore, se no ci perdiamo da casa. Elisa Taranto, ciao Elisa. Gentilissimo Elisa. Allora, questa è la prima e l'ultima volta che ho messo questa cosa degli hashtag. Regan Potenza, ciao Regan. Non potevo mancare Regan. Poi la nostra Sharon Gabriele, ciao Sharon. Grande Sharon. Poi abbiamo un... Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Basta. SZ, SZ che ha fatto il messaggio, ma senza lasciare gli hashtag. Per cui, prima di saluto. Siamo a posto così. Allora, però... Grazie a tutti e alla prossima. Però oggi siamo a posto così. È finito il video? Amore, dai! Che pazienza. Eh, dobbiamo via tenere. Non ce la posso fare, veramente. Eh, dite, bravo a me. Allora... Caccia Papa Campani. Che cosa hai preso qui? Allora, innanzitutto, diciamo, dove l'abbiamo preso? Allora, io, niente, devo cominciare questo mio nuovo hobby. Non so quando comincerò questo nuovo hobby, appena più presto. A più presto, appena se ne va a questo. Si fa il giro, hobby. Allora, ho preso dai cinesi, uscendo ieri, ho preso questo bel turchese. Cioè, me lo stai vedendo quanto è bello sto turchese? Tamara, cosa ci farai? Surprise. Yeah. Poi abbiamo questo rosa molto chiaro, antico, quasi. Ah, no, 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 no. Entrate la rosa. Un rosa più sul fucsia. Bellissimo. Che gli vuoi dire? Niente. E poi abbiamo ancora uno Ancora più scuro Sempre gomma Fomi, gomma Eva Guarda che bello anche questo Ma questo con questo E aggiungiamo Anche questo Cosa deve uscire fuori qua Speriamo una cosa bella Sì che è? Compriamo una cosa bella Ma questa è una guarda corretta Guarda questo No vabbè Allora che te lo dico a fare Che poi ho preso Anche dal filo d'Arianna Questo che però vedi non è lo stesso colore Non è fegolos Più fegolos, questo o quello? Più grande Anche io sono d'accordo con te Questo qui è l'unico glitter Che ho preso dai cinesi Dopodiché continuiamo con la gomma Eva No, gomma Eva C'è scritto Gomma Eva Questo bellilla Poi abbiamo preso Sempre il bianco Vabbè il total white Non può mancare Ah questo c'è scritto Un euro O novanta centesimi Novanta centesimi Novanta centesimi a foglio Non è tanto dai Poi ho preso un marrone Sempre dai cinesi Ma che bello anche questo Ma già mi ci vedo Cioè ma questo no? Con Aspetta fammelo ripia Fammelo ripia Con questo Cioè secondo me è la morte sua E se non siete contenti Gli possiamo mettere Oh beh E' bello Questo insieme al marrone Guarda che guarda Secondo me ci sta E' lui E' vero E' vero E' lui E' che secondo me Guarda che Guarda che Forse forse ci stava meglio in rosa Ma ci facciamo stare bene anche qua E sto tranquilli Poi ho preso un foglio Finiamo prima con la gomma Eva Questa è l'ultima gomma Eva Rosso Beh non poteva mancare Ultimamente il rosso Mi piace Questo è invece il feltro Anche il feltro mi servirà Ho preso il bianco Per stare sul Diciamo che va bene con tutto Per cui ho preso solo un foglio di feltro Che mi è costato anche 0,90 centesimi 0,90 centesimi Poi Ma questi li abbiamo presi tutti da Deci mesi questi Poi Sono passato al filo da Rihanna E ho preso Perché è lì vicino Quindi giustamente Il turchese Queste sono più piccoline E sono costati un euro E però Ci sono dei colori Che dal cinese non ci sono Tipo questo Guarda come sbrillucica Potevo mai lasciarlo Vabbè Non è pareti di questo Non è Prima l'abbiamo fatto vedere Ma tu dove stai di casa? C'è anche questa Però questa non mi è critica Tu mi ammazzi la creatività Me la ammazzi Non me la faccio ammazzare da te Forse Poi ho preso questo bello giallino Tipo il vestito della bella Era bello Cioè guardalo Marco Cosa ne pensi di questo? E' troppo chiaro nel video Leggermente più scuro qua No E' vero Però è bello uguale E' bello Questo lilla Potevo mai lasciarlo il lilla Ma tu metti il lilla con Cioè guarda questo binomio Facciamo il trinomio Dai metti giù Che binomio devi fare? E poi abbiamo questo trittico Di rosa Ho preso tutti i rosa che è possibile e immaginabile E poi che non c'erano altro Rosa antico Rosa confetto Rosa un po' più fucsia Cioè secondo me sono Questo è più il salmone Sì Va bene Che vita dura Allora questi sono tutti fogli Anche questa si chiama gomma eva Giusto? No Non c'è spiegato 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 Ah questo è fogli È vero Questo è fogli Sembra uguale però Infatti tra gomma eva e fomi Non capisco la differenza Però vabbè Va bene Ti scherzo Scusa Giusto? Giusto Ah Marco Vabbè dopo lo prendisco Va bene Poi andiamo avanti Marco Cosa c'è nel sacchettone lì? Allora l'abbiamo preso Cioè ho voluto prendere Perché lei fino all'ultimo Non lo voleva prendere Il copri materiale Il copri piumone Il copri piumino matrimoniale Con lo smile Stiamo riuscendo ad averlo Perché gli ha detto Che dall'altro lato È tutto giallo Quel giallo qua Senza fiumure Allora si è decisa Secondo me Secondo me Con una faccia del genere Non può mancare sul nostro letto Tipo del genere Certo Vuoi mettere Un soggetto Leggere Il delfino Il gattino Il cagliato O vuoi vedere con lui Se lo stiamo scherzando Vabbè possiamo posarlo Vabbè possiamo posarlo Questo è il detto Allora adesso tira fuori L'indavende L'indavende Quante marche Quante marche Beh tira fuori Tutti i miei acquisti Ah sì Gli accendini Ti dici Quattro accendini Per due non fumatori Per un euro e venti Hai cominciato a fumare? No Mi serviranno Anche questi Insomma Mi serviranno anche questi Paura a sapere perché Un euro e venti All'emd All'euro spin E la mamma mia Ogni volta mi sbaglio Poi abbiamo il trittico Uno Questo dai cinesi Però un altro cinese Trittico Bianco Beige Canna Indevinate quale sarà il terzo? Il rosa È chiaro Strano che non ho preso Il turchese O l'azzurro Però la prossima volta Tanto lì Un euro a rotolo Sono 25 metri Per 2,5 centimetri Di spessore Il bianco Total white Va bene su tutto Neanche te lo sto a dire Il panna Ile con patate Ma poi col marrone Aspetta Perché adesso facciamo Il trittico Questo è organza Mi piace sta parola Trittico oggi Questo è organza Mentre questi sono di raso No amore Anche questo è organza C'è scritto qua raso E qua c'è scritto organza E là c'è scritto raso Allora prima di tutto Stai tranquillo Allora vediamo Allora il trittico è Marrone Mischiato al turchese Glitterato Con il panna Ma doveva che bello Cioè tu dimmi a me Che cosa deve uscire fuori qua Non lo so nemmeno io Cosa deve uscire Proprio qualcosa uscirà Qualcosa che andrà qua Ma il rosa Non è meraviglioso Questo rosa confetto Tamora ma cosa devi farci Con sta roba Ti preoccupa di no Arriverà il momento Che vedrete anche voi Non voglio spoilerare niente Perché poi se esce l'affissionata Va già la figuraccia Qua sta uscendo una cosa White Quattro cose white Allora intanto metto via questo No ma quelle cose lì Non le possiamo far vedere Perché se no si capisce Piano B Allora aspetta Non guardate Perché loro secondo me Non hanno capito O hanno capito O boh Non lo so No no Non è un asta E vediamo cosa credete che sia Così un po' di rompere Che è un asta Dai amore Cosa avete capito Cosa credete Fami vedere Cosa può tirare fuori Questo lo puoi tirar fuori Questo l'ho preso Un nastro Un bellissimo nastro bianco Con i pallini dorati Quattro dorati Questo l'ho preso Da Zodio Bellissimo Questo Quello può tirare fuori Sì Che arriva anche lui da Zodio Ma questo lo volevo provare Io manco Non puoi dare a prendere Un pezzo di carta Che lo proviamo al volo Facciamo la prova del 9 Fai vedere cos'è intanto E fammela aprire Aspetta che ti spappo Praticamente è il punch Si chiama punch? Perforatrice Perforatrice Vabbè Questo anche l'ho preso Da Zodio Ed è Febulos Ma di quanti centimetri è questo fiore? Buono e grossi Eh cosa ti prende? Foglio di carta? Sì sì Un foglio di carta Qualsiasi Guarda che bella È bellissimo È costato un po' 10 euro Questo qui Però voglio dire Ce l'hai a vita Ce l'hai per sempre E mi serve Mi serviva proprio Proprio questo Mi serviva Eh ce la facciamo A prendere un foglio Ascolta Avevo Tu sei chi Rennominati In mezzo ai piedi Vediamo Funziona E poi questa parte qua No perché io devo fare i fiori con questo Eh Lo devo tenere Eh Questa sarebbe praticamente la parte da buttare No? No questo è come da buttare No questo è quello che ti rimane Eh sì infatti Non è da buttare Questo è quello buono Certo Il fiorillino Questo oltre lo dovrei tenere aperto a questo punto Il fiorillino Eh sì Questo rimane appena a te c'è il fiore Se non lascio chiudere Dai Facciamo una prova del 9 con un coso Ah proprio così Sì Usiamo un colore questo Non fabuloso Non sono tutti fabuloso Però dai Non meno è questo Meno fabuloso È veramente fabuloso anche questo Però mi hanno detto Che bisogna usare Insieme la carta Ma adesso non so Se la carta sotto O la carta sopra Facciamo la carta sotto Sopra Vai Taglia l'angolino Moren Fai te Così si fa i danni E fai te Devo sentire Non ci posso Porca miseria Non ci posso Ah io Ah No Il foglio non ci passa Non ci passano neanche i petto Ecco perché Infatti mi avevano detto Che questo serviva da un millimetro Però questo è da un millimetro A me mi sembra più di due Di un millimetro Ma l'hanno spacciato per un millimetro E non possiamo far forza Inserare 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 Inzaccarlo dentro Eh Se appiattisci Via quel dito lì Che non mi ispiri Un po' Cioè ma perché Noi ci dobbiamo sempre Ridurre a far te cose In video Amore dai Fai forza Ma io posso Fa sta roba Perché l'ho preso Io quel coso lì E fa sto lavoro Per quello L'ho preso Va bene Va bene solo per la carta Sì Porca miseria Per la carta Per qualcosa di fine Adesso vediamo se Si possa regolare in altezza Ma no Ma non ci passa proprio Marco Proviamo a insistere Prova quell'altro Che magari è più fine Quale? Questo è sicuramente Più fine E feltro Eh ma io non devo farlo col feltro Questo mi sembra anche più fine È solo questo qua È solo questo qui Adesso Hai trovato quello? Eh mamone Ma non è che io con questo Non voglio fare i fiori Pure con questo Devo fare i fiori Eh vedi che gli spessori Sono differenti È vero Quello è più grosso Eh porca miseria Dai Allora vediamo se ci sta la carta Anche Pa pa ra pa 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 Mettila nell'angolo Così non consumiamo troppo No già con la carta è troppo Senza carta Vai qua Nell'angolo Amore Ok L'hai visto perché bisogna usare la carta? Perché succede sto guaio qua? Vedi che non lo taglia bene I lati non vengono tagliati bene Eh infatti Invece usando la carta L'ho visto in un video Invece usando la carta Verrà tagliato lì Siamo con Marco Carta Qua funziona meglio Dai spinni Amore però vicino a lì Perché se no mi usi troppo Non ci passa con la carta È uno spessore di troppo Vediamo se facciamo invece così No ma ce la facciamo Adesso mettiamo la carta Sì dai Prendi di là Prendi dalla carta No non devi tirarlo verso lì Tirarlo verso lì Non è che bella molto Ma che bella Sicuramente Ok Adesso vedrai Hai visto che dove è tagliato quella carta Si è tagliato meglio Questo è uno E questo è due E questo è tre Certo Amore però dalla parte della carta Si è tagliato meglio E allora metteremo la carta Potremmo mettere magari la carta forno Che è più fine Bravo proviamo con la carta forno Dovevo prendere la fustella io Non il coso qua Non c'era la fustella del fiore Sennò non prendevo la fustella Ma due cosa sarà? I millimetri Aspetta che chiuso lì Che mi toglie la luce Sto appiattendo Perché già entra la macchina Ehi ma quello è piattimento Mamma mia che schifo cito Amore la carta forno non va bene Via Ci vuole la carta Questo video durerà un altro mezzo secolo No amore non va bene Dai usa la carta Facciamo l'ultima prova Poi basta Siamo noi Siamo noi E facciamo tutti i video Siamo noi Distriggendo Questo è meglio Che gli esperimenti di tavara Nuovo forma Gli esperimenti di tavara Ci siamo? Secondo me non è tutto dentro Sì è più di così non va Vai schifcia a te Vai forte Vai E vedi che non era tutto dentro Dai apri questa cosa Ma perché? Già non va bene Gli altri fanno sempre cose da Dio Io non ce la farò male a fare quello che devo fare Sì questo è gli esperimenti tuoi Cosa vorresti dirmi? Magari questa qua il 2 sta per 2 mm Eh ma non ce ne erano altri Marco Io avevo proprio Vedi carta 2 mm 90 250 gradi 2 mm Quindi se questo è 2 mm Eh non ci posso No questa non è 2 mm 1 mm mi serviva a me Tu dici che questo è 2 mm Quella che te l'hai creato io dov'è? Quella è ancora più alta Quella è 2 mm Eh dai vai a prendere Non è che magari quella la rende di più che queste Vediamo Proviamo ma io Non ci credo Anch'io però Tanto abbiamo un tempo Nell'ultimo cassetto Ok Io non ci credo tanto Eh no perché i bordi sono tutti rovinati insomma Allora un colore poco fabulo Questo Che questa è fatta per la carta Amore ma questa non è carta È gomma eva No questa è scritta che è fatta per la carta Non ci entra neanche quello Come non ci entra questo Non ci entra quello Questo è ancora peggio perché è alto come quello lì Ok C'è scritto carta da 2 mm Sì Adesso sfascialo quel coso Sì no se abbiamo ancora lo scontrino per avere la zona Lo cambio con uno da più millimetri Con uno da più? Eh che si ha più di 2 mm Tu ce l'hai lo scontrino? Puoi rimetterlo dentro? Ok Beh vediamo dai vediamo Io l'ho presa ma l'ho sbagliata Niente la prova del 9 Già fallito tutto Vabbè Io ho parole E vabbè Ok se troviamo lo scontrino Andremo a fare il cambio E si farà la prova Quindi questo che è tutto? A me ci sono Vai No Quelli ritengo io bene Meglio Dai caccia le altre cose che ho preso Ah voilà Gli stick per la colla a caldo Ho preso quelli piccolini Ma ho visto che finiscono in un attimo E allora sempre dai cinesi Alla modica cifra di 1 euro Anche questi Ho preso quelli lunghi Che durano qualcosina di più Insomma Poi No questi non puoi farvi Vabbè tanto ho fatto vedere I pistilli per i fiori Questi anche li ho presi da Zodio Bianco Beige E questo Bianco Questo bianco Particolare Bellini Non vedo l'ora di usare il tutto Questi non dovevi farli vedere E ora Allora sei un festone sei C'è lo scontrino di Zodio Ecco E l'ultimo nastro E lui Scontrino di Zodio Un altro nastro Sempre preso da Questo dai cinesi O da Zodio Marco Nastro Tulle No Poi So gold Nastro Organza No mi sa che è da Zodio Questo qua Sì Beh Non mi ricordo più Comunque rosa Chiaro Vabbè dai Vi faccio vedere Quello che c'è qua dentro Spontrino poi i Zodio Lo tengo via io Preso dai cinesi C'è Il Come si chiama L'elastici per i capelli L'elastici per i capelli Rosa Neri Bianchi Grigi Lilla Lilla Chiaro Lilla Scu Viola Sì Comunque Zodio Perché Di marca Sempre dai cinesi E ho preso Questi Lilla Fatti in quest'altro modo Però credo che Questi vadano già bene Praticamente Voglio fare Delle cose Per i capelli Si è capito No È ovvio Facciamo Però vediamo Se si riesce a fare qualcosa Perché già qua Siamo partiti Malissimo Oggi Quindi bisogna prendere In chi devo aspettare Che guarisco Il buca buca qua Da più di 2 mm E devo prendere da 4 Io chiedo Se ce l'ha Da 4 mm Ah sì Vediamo se ce lo cambiano Ce lo cambiano Per lui sì Puoi andare oggi Puoi andare adesso No No Perché adesso Ci vado in settimana Che ce l'ho 3,2 Va bene Carichiamo sto video E niente Spero che i miei acquisti Vi siano piaciuti E vediamo cosa combinerò Ciao a tutti quelli Che vanno lasciato gli hashtag E alla prossima Ah sì Spoliciate Condividete E alla prossima Ciao Stuttiamo tutti insieme il video Stuttite e stutto io Marco Sbagliato a prendere la roba Amore Arrivederci E grazie per aver scelto Il nostro caffè di qualità Ciao 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 Ciao